ciao brewers bentornati al route 45 per una nuova puntata del mio vlog oggi avevo tempo avevo anche stranamente un po di voglia di girare un video ma purtroppo non ho in mente argomenti particolari non mi è venuto in mente nulla di particolarmente interessante di cui parlare quindi vabbè inizierei con lo stappare una birretta che quella ci sta sempre bene cosa dite la birra che ho qui london calling ovvero una english bitter in casa da lorenzo grain come sempre è una birra che ha un annetto sulle spalle quindi un po stagionatina però vabbè non è detto che sia cattiva no diamo le fiducia ecco qui la nostra bitterina vedo dall'aspetto sembra parecchio frizzantina forse anche troppo per una bitter ma potrebbe trarre in inganno la schiuma molto cremosa persistente vite sono di quegli stili apparentemente semplici non sia come ricette che come produzione che però io non sono mai riuscito a fare bene bene come come vorrei stranamente mi vengono sempre fuori quelle che ho provato a fare in passato insomma mi sono sempre venute un po sì magari non male ma sempre non perfette ecco quindi sono sempre litigato un po con le bitter e con le birre inglese in generale mi dispiace perché come stile di birra mi piace anche ecco alexa parla di un po delle bitter inglesi ho dei dubbi alexa sei più inutile di un travaso intermedia purtroppo non trovo la risposta alla domanda passiamo alla saggio va salute sì questa direi che che non è male alla fine sì la frizzantezza non è non è eccessiva forse leggermente più carbonata della tipica bitter inglese però non è non è troppo frizzante amaro presente abbastanza deciso ovviamente aromi di luppolo non non eccessivi non è tanto lupolata tanto presente come a roma si sente un certo floreale puntina di erbaceo dei luppoli ma non non eccessiva uno dei difetti che avevano spesso le mie bitter era proprio un erbaceo eccessivo ora non so quale lievito avesse usato lorenzo in questa in questo suo bitter però non è male dai mi piace facendo questo assaggio mi viene in mente sempre di mi rendo conto ancora una volta di quanto io sia veramente incapace di fare una una recensione obiettiva di una birra di fare una degustazione nel senso anche riguardando i miei video passati mi sembra di descriverle tutte allo stesso modo con quei quattro aggettivi che conosco sembra che siano tutte uguali le birra che bevo perché veramente io non ho le capacità evidentemente di riuscire a individuare descrivere bene sia le caratteristiche così come anche i difetti eventuali delle birre mi spiace per quelli che mi danno le birre da assaggiare come lorenzo anche gli altri amici che me le hanno magari spedite perché magari non riesco a dare delle valutazioni così utili come come vorrei e come magari si aspetta chi chi mi manda le birre da assaggiare però questo sono io abbiate pazienza per quanto riguarda le mie birre non ho ancora fatto l'ultima cotta di cui avevamo parlato video scorso questa lanforda di quest'anno ancora da da decidere un po come come fare avevo chiesto anche il vostro aiuto diciamo che la scelta della birra da fare si sta orientando sempre di più verso la la sezona quindi sì probabilmente farò quella salvo cambiamenti improvvisi ora pare stia cominciando a fare un po di caldo e quindi potrei approfittarne per per fare questa cotta che al contrario delle altre ha bisogno magari di un po di caldo per parlare il meglio di sé stavo anche pensando che cambiando argomento uno dei motivi per cui non ho magari neanche molte idee di cui parlare è che non sto seguendo molto l'ambiente dell'home brewing diciamo è da da diversi mesi ormai che ho praticamente abbandonato anche i forum che seguivo mi dispiace però sono un po altri interessi che sono subentrati un po di mancanza di tempo e alla fine non non li sto più seguire non sono quindi più aggiornato sulle novità sulle tendenze sulle cose di cui si parla e quindi rimango un po anch'io a corto di argomenti probabilmente anche per questo seguo qualcosina magari qualche blog occasionalmente o il podcast di daniele di cui vi ho parlato un po di tempo fa che mi fa sempre compagnia la mattina nei miei viaggi verso il posto di lavoro però a parte quello si sto rimanendo un po fuori dal giro mi rendo conto da una parte mi dispiace però per il momento è così quindi niente oggi la concluderei in questo modo suggeritemi voi lasciatemi un commento se c'è qualche argomento che vorreste veder trattato nei miei video grazie ancora a lorenzo per la birra che si beve sempre con piacere e noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti salute